Salve, sono James Patterson e in questa guida vi illustrerò alcune delle funzioni del browser profili inserito nell'ultima versione di Adobe Camera Raw. In particolare vedremo come realizzare un profilo personalizzato e poi come creare una specifica tavola di consultazione colore utilizzando i livelli di Photoshop. I profili offrono numerose possibilità creative soprattutto a chi usa Photoshop Creative Cloud perché qui possiamo creare una tavola di consultazione colore personale, esportarla e quindi utilizzarla in Camera Raw per realizzare un profilo personalizzato. Scegliamo un'immagine di partenza in Adobe Bridge e facciamoci clic sopra con il tasto destro del mouse per poi aprirla in Camera Raw. Nella finestra del plugin vediamo che il browser dei profili si trova nella parte superiore del pannello base e che oltre alle diverse opzioni per modificare velocemente la foto c'è la possibilità di creare dei profili personalizzati partendo da uno predefinito. Scegliamo nel nostro caso il profilo Vintage 02 e clicchiamoci sopra due volte. In Camera Raw possiamo applicare delle modifiche della foto quindi entriamo nella sezione di visione toni dove per prima cosa renderemo un po' più calde sia le luci sia le ombre sebbene queste in misura inferiore. In questo esempio le impostazioni non sono molto importanti dato che si tratta di una semplice dimostrazione di come si possa modificare un profilo predefinito per poi salvarlo in uno nuovo. Fatto ciò andiamo nella sezione predefiniti e tenendo premuto il tasto Alt facciamo clic sul pulsante nuovo predefinito. Nella finestra nuovo profilo inseriamo un nome per esempio Red Landscape e vedremo subito che verranno selezionate automaticamente le impostazioni che abbiamo modificato. Scorrendo il pannello verso il basso vediamo che c'è una sezione dedicata alle tavole di consultazione colore. Useremo questa per aggiungere la nostra tavola personale. Dato che abbiamo scelto di partire dal profilo Vintage 02 anche nel nuovo profilo è stata inserita la relativa tavola di consultazione colore ma la possiamo sostituire con una personale creata in Photoshop. Chiudiamo con ok e nella sezione base di Camera Raw riapriamo il browser profili. Scendiamo fino alla sezione profili personali dove vediamo che alla foto è stato applicato il profilo Red Landscape. Ora possiamo usare il cursore fattore per attenuare un po' gli effetti del profilo. Abbiamo visto come creare un nuovo profilo in Camera Raw modificandone uno preesistente. Quindi passiamo alla spiegazione di come realizzare una tavola di consultazione colore personale. Usciamo da Camera Raw e apriamo la nostra immagine in Photoshop. Iniziamo aprendo il pannello livelli che useremo per creare la tavola di consultazione mediante i livelli di regolazione. Facciamo quindi clic sull'apposito pulsante che si trova in fondo al pannello e scegliamo dal menu un livello di regolazione, per esempio mappa sfumature. Apriamo l'editore sfumatura facendo clic sull'anteprima. In questo clicchiamo sul piccolo pulsante in alto a destra e dall'elenco scegliamo la voce viraggio fotografico, così da caricare questo tipo di sfumature. Proviamo quindi diverse sfumature e scegliamone una di nostro gradimento, per esempio potrebbe andare bene la sfumatura seppia blu 2. Anche qui non è importante quale sfumatura scegliamo, bensì lo è come esportare queste impostazioni sotto forma di tavola di consultazione colore. Se vogliamo possiamo usare più di un livello di regolazione, per esempio aggiungere un livello bilanciamento colore con cui dare alle ombre una colorazione blu più fredda e in mezzitoni una rossa più calda. Possiamo anche regolare l'opacità del livello bilanciamento colore, così da modularne l'effetto al meglio e se vogliamo farlo anche con il livello mappa sfumatura. Tutto ciò modifica ancora di più il look che daremo le nostre foto. Attiviamo il livello sfondo e poi andiamo nel menu file, su esporta e infine su tavola di consultazione colore. Nella finestra che si apre lasciamo le impostazioni come le troviamo e clicchiamo su ok. Nel pannello di salvataggio diamo un nuovo evocativo al file, per esempio coolton e poi scegliamo dove salvarlo, quindi confermiamo con il pulsante salva. Fatto ciò possiamo tornare a bridge e realizzare il nostro profilo personale. Apriamo un'altra foto scegliendo sempre l'opzione apri in camera raw. Nella finestra di camera raw andiamo nella sezione predefiniti e come prima tenendo premuto il tasto alt clicchiamo sul pulsante nuovo predefinito. Nella finestra di dialogo nuovo profilo digitiamo un nome che evochi l'azione di raffreddare i colori e poi scendiamo fino alla sezione tavola di consultazione colore. Qui dobbiamo fare clic nella casella sinistra del nome e poi usare il file che abbiamo creato in photoshop. Vedremo così che il profilo creato usa ora la nostra tavola di consultazione colore, quindi confermiamo con ok. Torniamo alla sezione base e apriamo il browser profili. Scendiamo fino a profili utenti e vedremo il profilo che abbiamo appena creato. Applichiamolo e poi usiamo il cursore fattore per modulare l'effetto come preferiamo. Possiamo accentuare o diminuire l'effetto in ogni foto a cui applichiamo questo profilo. Bene, abbiamo così visto come creare una tavola di consultazione colore con photoshop e poi come integrarla in un nuovo profilo dentro camera raw. Teniamo presente che ogni volta che useremo Lightroom troveremo anche lì il nostro profilo personale. Bene, è tutto. Arrivederci alla prossima.